I lavori nel cantiere per la ristrutturazione di via Cascione e Imperia saranno interrotti in occasione delle vacanze natalizie dall'8 dicembre al 6 gennaio. Il comune ha infatti accolto la richiesta avanzata in questo senso dei commercianti. Il presidente del CIV e il centro integrato di via Riccardo Caratto ha incontrato oggi il responsabile del procedimento per avere informazioni e garanzie sull'avanzamento dei lavori al fine di evitare il più possibile disagi per le attività commerciali. E' stato concordato di ultimare Piazza Fratelli Serra per poi procedere con la riqualificazione della parte alta della via. Durante questa fase sarà garantito il transito ai furgoni portavalori delle banche che passeranno da Galleria Castaldi e imboccheranno in salita il tratto di via Cascione. Lo stesso potranno fare i proprietari dei box auto in Piazza Serra. Verso metà novembre invece si passerà i lavori sui marciapiedi dall'incrocio con via San Maurizio fino a Piazza Serra. La demolizione dei marciapiedi e la posa delle passerelle per accedere ai negozi verrà fatta nei giorni di chiusura o comunque in orari di minor disagio per gli esercenti.